La confessione Mkegne. Roma Francesco Totti è uno dei campioni che ha fatto la storia del calcio italiano e mondiale. È stato il simbolo della Roma, ha vinto un mondiale nel 2006 con la nazionale italiana. Per tanti giovani calciatori è stato un esempio, un riferimento, un idolo. È il caso di Weston Mkegne. Centrocampista della Juve, che dal ritiro degli Stati Uniti in Qatar ha confessato questa curiosità, il mio idolo calcistico, Francesco Totti. Così l'americano, in un botta e risposta con l'ex calciatrice Melissa Ortiz, attraverso i canali social della nazionale a stelle e strisce. Virgola.